Dalle tende a strutture abitative più solide per permettere senza fissa dimora di Bari di trascorrere l'estate senza rischi, più in generale l'anno senza rischi. Accade nel capoluogo pugliese, grazie a Comune e Provincia di Bari e dalla Croce Rossa. In cosa consiste l'ha spiegato Ludovico Abaticchio, assessore comunale al welfare, ospite in studio nel nostro Tg delle 14. Assessore, in cosa consiste questo nuovo assetto dell'ospitalità? È innanzitutto una cosa che è nata il 16 dicembre 2009 con la tendopoli per la prima accoglienza per i senza fissa dimora per l'emergenza freddo. In realtà adesso la Croce Rossa ci ha regalato, si può dire, all'interno della convenzione che abbiamo realizzato ancora una volta quest'anno, delle moduli abitativi con aria condizionata per l'estate e aria calda per l'inverno per i senza fissa dimora. Su quelli che dormivano prima nelle salle d'attesa degli ospedali, che dormivano sotto il portone di casa nostra. Quindi abbiamo realizzato anche questa funzione sociale di accoglienza più qualitativa. Assessore, chiariamo soltanto un attimo, quando parliamo di senza fissa dimora non parliamo soltanto di immigrati? No, infatti parliamo di povertà e all'interno di questa povertà, per quanto riguarda soltanto il campo della Croce Rossa, abbiamo più di 65 persone che sono baresi o della provincia di Bari. E' forse la prima realtà operativa interistituzionale in Italia. Diciamo che con le difficoltà economiche, con questo salvadanaio istituzionale, dove il Comune di Bari ha messo insieme alla Croce Rossa e in parte alla provincia una disponibilità anche di volontariato, e grazie a tutto il volontariato laico e cattolico, ai medici, gli operatori della sanità del 118, della guardia medica e dei medici di famiglia, questa città è una città che rappresenta in maniera egregia in Europa un modo di assistere la gente più fragile e più povera. C'è bisogno di più sponsor, c'è bisogno di più finanziamenti? Grazie, perché per esempio, lo dico così, a grandi stazioni se non ha più gente che dorme nelle sale d'attesa lo devi anche a questa iniziativa, per cui io mi aspetto anche dei budget di carattere alimentare o di sostegno di carattere anche qualitativo, dal punto di vista anche organizzativo, e poi è chiaro che ci sono dei privati, banche, ho fatto una lettera qualche tempo fa sia all'Assindustria e a altre associazioni similari chiedendo se potevano dare dei contributi, ma purtroppo non ho ancora avuto la risposta, ma credo che questa lettera fosse qualcuno, sentendo questa trasmissione, forse la può rileggere e si può ricordare che forse un pizzico di collaborazione in più, solidale, ci aiuta a essere meglio in questa città.